Eccoci qui al make up, situazione disastrosa, quindi prendo subito il fondo, Paola P Power Cream numero 03, il pennello appunto della Sigma è la mia affidatissima spugnetta della Real Techniques, è già la situazione migliorata, meglio meglio. Facciamo però le sopracciglia con il Cabrao di Benefit nel numero 5, poi matitone di Kiko che è questo matitone opaco che utilizzo sempre per l'arcata sopraccigliare, di solito lo vado proprio a fissare con questo ombretto di Catrice. La situazione è già migliorata, vado a prendere l'ombretto liquido extra tenuta Bottega Verde nella colorazione mauve che utilizzerò come base per questo make up, ha questo bel effetto metallico. Poi prendo la Naked 3, il colore Buzz, molto simile a quello della base e appunto vado a fissare l'ombretto di Bottega Verde. A questo punto, sempre con la palette Naked 3, prendo Nuner che utilizzerò come colore appunto per la mia piega, quindi un pennellino da sfumatura, prelevo il colore e con un po' di pazienza inizio a sfumare nella piega. E qui andiamo già al risultato sfumatura terminato, riprendo sempre la Naked 3 che io adoro come sapete, devo cercare un colore per la parte finale dell'occhio, la parte più esterna e scelgo Black Heart che è appunto il colore più scuro della palette. Lo metto appunto nell'angolo esterno dell'occhio, matita Diego Dalla Palma, perla rima inferiore, gel eyeliner di Kiko, metto anche il mascara, non lo avete visto, poi palettina di Slick super illuminante, quello glicine per l'interno dell'occhio. E finalmente arriviamo al correttore che cambia tutta la situazione, Dior Skin Star numero 2, poi nell'angolo più interno diciamo vado a illuminare con il Prep and Prime di MAC e fisso tutto con il correttore minerale Idun, nella colorazione Idegram. Finalmente un po' di contouring, mixo le polveri Gotham e Centrope di Nabla e l'illuminante invece è il Baby Glow. Finalmente momento blush che mi cambia completamente proprio perché io adoro avere questo bel colore fresco e luminoso. Questo è l'air blush di Marc Jacobs nella colorazione 504 Kink and Kisses, il pennello è il 109 di MAC, ci vado giù abbastanza pesante perché questo blush lascia comunque un aspetto molto naturale, però come vedete cambia proprio l'aspetto del volto, diciamo dà questo aspetto più sano, più fresco, anche più riposato. Labbra, Lime Crime, Kashmir e Elisabeth Arden, matita Raisin, fisso tutto con l'All Nighter di Urban Decay e il make up è terminato e niente, me l'avete richiesto in tante, l'unica cosa che non mi piaceva erano i capelli, sono andata infatti a fare qualche boccolo e niente, spero vi sia stato utile, non è un tutorial, però ecco così vi ho fatto vedere il make up che in tante mi avete richiesto. Allora, nuovo video nel quale vi voglio parlare di alcuni ombretti che mi sono stati inviati da Bottega Verde e mi sono piaciuti tantissimo. Voi sapete che vi avevo già parlato di vari ombretti liquidi che ho provato in passato di altri brand e come tipologia di prodotto mi piace moltissimo perché uno d'estate per esempio li uso moltissimo perché sono proprio duraturi. All'ombretto liquido mi dura ancora più di quello in crema e non mi va assolutamente nelle pieghe. Quindi quando c'è qualche prodotto liquido io non vedo l'ora di provarlo, per cui ben contenta che Bottega Verde, che poi è un brand che mi piace tantissimo, come sapete ve ne parlo spesso, moltissime cose le compro da me, molte me le mandano loro ed è un brand che compro da sempre. Allora, questi che mi sono stati inviati sono i MyColor ombretto liquido extratenuta con estratto di mimosa, olio di nocciolo di albicocca. E il pack è questo. Intanto complimenti a Bottega Verde per il pack perché trovo che sia essenziale, carino e anche l'occhio vuole la sua parte quindi mi è piaciuto. E invece per quanto riguarda i prodotti li prendo perché io li ho già tolti dalle scatoline per provarli. Allora, eccoli qui i colori, sono sette colori, ve li faccio vedere tutti insieme. Questa è la gamma, non so se sono tutti quelli che sono stati prodotti, presumo di sì, ma non ne sono ovviamente sicura perché devo dire la verità non sono andata a vedere sul sito. Adesso ve li faccio vedere e mi è venuto in mente di fare questo video perché avevo fatto questo make up che ho su adesso. Nel video forse Saidori, non era Saidori maniera, prodotti finiti del mese e vi era piaciuto tantissimo il make up e mi avevate detto tutte rifallo, 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 rifacci vedere come l'avevi realizzato. E devo dire che uno dei prodotti che ho utilizzato è appunto uno di questi ombretti che se non sbaglio è appunto il numero 100 finale perché hanno una sigla numerica 144 e poi finisce con il 100 che è questo cuoì che ho in mano adesso ed è il color mauve. Andiamo a perché c'è scritto, ecco un appunto, se posso permettermi un consiglio a Bottega Verde che so che comunque guarda i miei video. Potevano essere scritti i colori direttamente anche sul pack, invece li ritroviamo nella scatolina scritti qua dove c'è il codice a barre in piccolo. C'è scritto appunto color numero 2, adesso dovrei cercare quello relativo a questo qui che è il numero 2, questo è il 7, sarà l'ultimo che io troverò. E' sempre così ovviamente, non lo trovo nemmeno, non so, eccolo, l'ho messo qua. Allora, eccolo qua, sì, è l'ombretto liquido color 2, mauve. Se scrivete il numerino con il nome anche sul pack del prodotto è più carino perché spesso magari li teniamo, noi appassionate di make-up, che abbiamo tanto make-up, magari li teniamo infilati così in un contenitore, quindi magari andiamo semplicemente a leggere qui sopra il colore relativo e comunque magari se devo per dire ad una ragazza il nome del prodotto non lo so più perché c'è soltanto il numero e non il nome. Un piccolo consiglio che può magari essere utile. Detto questo, vi faccio quindi gli swatch. Ah, quindi il trucco di cui vi siete, diciamo, innamorate perché forse ragazze non ho mai ricevuto così tanti complimenti come per questo make-up che ho adesso. Ti sta benissimo, è molto carino, è piaciuto moltissimo, insomma, quindi io sono contenta che vi sia piaciuto e l'ho voluto riproporre, riprodurre anche oggi. Io, scusate che mi tira la maglietta, ok, l'ho voluto riprodurre anche oggi, dovevo andare ad un evento e me lo sono rifatta. Nell'occasione ho anche fatto una piccola clip che vorrei appunto montare dopo avervi fatto gli swatch dei prodotti, così vedete come l'ho realizzato, l'ho un po' sveltito in modo da renderlo, cioè non è che vedete tutti i passaggi, però vi spiego che prodotti ho utilizzato. Dunque, arriviamo agli swatch dei prodotti, vi do qualche informazione appunto sul prodotto, dice Vibrazioni metalliche con questo ombretto liquido dall'impatto cromatico eclatante, una texture soffice e vellutata. Si stende sulle palpebre con l'applicatore e lo si sfuma a piacere. Allora, io devo dirvi che non l'ho sfumato perché sono andata ad applicarlo proprio sulla palpebra mobile e mi fermo nel punto della piega e sovrappongo poi in quel punto con un pennello da sfumatura il mio colore della crease, quindi praticamente non ho gran che bisogno di sfumarlo. Vi mostro appunto per primo il colore che ho utilizzato per il makeup, che è appunto il mauve, questo, e vi faccio lo swatch. Non esiste Silvia che vada in giro senza uno swatch di quando si è truccata nella giornata, insomma, io vado sempre in giro così, vabbè. Allora, facciamo lo swatch di questo prodotto qua, ve lo faccio, ve lo applico in diretta, si può dire, non lo so. Eccolo qua. Questo è appunto il colore che ho sugli occhi, che è questo mauve bellissimo, mi piace veramente tanto. Poi andiamo a vedere, prendo random perché questo qui è il 425, che cercherò di dirvi come si chiama, ametista, è il numero 5 ametista, ok? Ed è questo qua. Guardate che bella sfumatura. Anche di questo non vedo l'ora di farci un bel trucchettino, mi ispira parecchio. E lo lasciamo asciugare così poi vediamo che tipo di colorazione viene fuori. Molto bello anche questo. Poi il numero 101, che è il colore, eccolo qui, numero 3, Tortora. Eccolo. Poi, il numero 423, questo è 29, 099, eccolo qui, è il numero 4, Mocha. Un bel marrone, appunto, caffè. Eccolo qua. Il verde, eccolo qua, il verde è il numero 428, che è Acquamarina numero 06. Anche questo mi sembra... Ma in realtà non è poco coprente. È che come... Secondo me ha bisogno di due passate. Però poi lo riproviamo, eh. Poi, il numero 099, che corrisponde al numero 01, che è il tool. Ah, scusate, non ve l'ho fatto granché vedere. È questo rosa... Champagne. Molto bello. Questo mi piace moltissimo. Eccolo. E per finire l'azzurro, che è il 429, che è il numero 7, cielo. Eccolo qua. Come vedete, sono molto metallici. Vediamo se si sono asciugati. Assolutamente sì, il primo si è asciugato. Quindi io magari andrei a ripetere l'applicazione. E devo dire che con la seconda passata sopra l'asciugatura, cioè sopra il prodotto già asciugato, guardate, viene molto più... Viene un colore molto più intenso. Ripeterei la stessa cosa con il colore verde. Questo. Idem. Vedete? L'effetto è proprio super metallico, eh? Molto, molto, molto. Uno specchio, direi, quasi. Poi, con il numero... Questo qua... Questo era questo. Mi sto confondendo. Sì. Questo era il tool, quello molto, molto chiaro. Fantastico, ripassato, è wow. Guardate. E poi andrei a mettere quello che ho utilizzato io per il mio make-up, che però era già molto intenso, vedete? Diventa proprio un malva. Molto più coprente. E per finire questo, che forse era il color tortora. Sì, direi che certi, proprio come dei rossetti, essendo liquidi, necessitano di una seconda passata. Le tonalità, diciamo, molto tenue. Eccola qua. Forse non ho fatto l'azzurro. Sì, non ho fatto l'azzurro. Eccolo. Con una seconda passata. Perfetto. Io sull'occhio non ho avuto problema. Sono proprio andata così a tamponarlo nella zona. E ha proprio enfatizzato la brillantezza del make-up che poi ho realizzato sopra il colore che ho utilizzato. Eccoli qua. Io vi lascio in infobox il link al sito Bottega Verde, così potete vedere i prezzi, perché onestamente al momento non li conosco, quindi vi rimando direttamente al sito. Madonna, io ho i capelli che sembrano un barboncino, forse è meglio che li lasci così. Vi lascio quindi al sito in infobox. Adesso vedrete la clip nel quale vedrete come ho realizzato questo make-up anche con l'utilizzo di uno di questi prodotti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!